Al bando errori e indirizzi di posta elettronica stravaganti, non è semplice scrivere un curriculum perfetto, il rischio è che sia troppo lungo, ossequioso o arrogante. Il curriculum, spiegano i responsabili della selezione del personale di Open Job Metis, è la storia della nostra vita, ma non è e non deve essere un'autobiografia, quanto piuttosto una sintesi del percorso formativo, professionale e delle competenze e attitudini del candidato. Un curriculum vincente, concludono, è chiaro, sintetico, convincente, coerente, di piacevole lettura e non deve trascurare cinque punti chiave, istruzione, esperienze professionali, lingue straniere, conoscenze informatiche e interessi.